ciao e benvenuti al secondo video di questo ritratto ad olio nel primo video abbiamo visto la costruzione dell'underpainting quindi disegno valori tonali eseguita esclusivamente con della terra d'ombra e trementina in questo secondo video invece lo porteremo a termine usando i colori l'underpainting aiuta molto i colori perché già ci dà il disegno fondamentalmente ci dà un'indicazione per i valori tonali in più rimanendo anche un po sotto al colore aiuta i valori tonali della pittura finale quindi non resta che augurarvi una buona visione ci vediamo al termine del video e a dopo ciao 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 bene il quadro è finito il colore è stato steso come avete notato durante il corso della stesura del colore anche il disegno è cambiato anche alcuni valori sono cambiati ovviamente non c'è mai non c'è mai non c'è mai niente di definitivo quando lavora e diciamo che in buona sostanza il lavoro non finisce mai però a un certo punto uno deve mettere uno stop e fermarsi così ok avrei voluto avrei 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 voluto fare un video diverso cioè aver messo dentro dei contenuti magari dei commenti delle cose su quello che stavo facendo non ne ho avuto il tempo ma soprattutto come dicevo nell'altro video un po' l'umore è un po' l'umore gli accadimenti di questi ultimi giorni sono abbastanza pesanti e mi distraggono molto dall'efficienza diciamo spero di riuscire a metabolizzare il prima possibile e portare più video possibili sul canale cerco di riuscire il meno possibile il lavoro purtroppo ho dovuto fermarlo e quindi avrò più tempo spero di sfruttarlo al meglio e spero che chi come me è rimasto a casa e sta in buona sostanza aiutando con quello che può cioè stando a casa chi invece sta battendo in prima linea contro questa situazione magari è rimasto a casa il tempo di dedicarsi a cose che prima non faceva minimamente come può essere disegnare dipingere suonare uno strumento fare dolci fare mettersi a cucinare qualsiasi cosa vi prego rimaniamo a casa aiutiamo chi sta combattendo veramente prima linea questa situazione laviamoci dal cazzo in buona sostanza prima salvaguardiamo noi stessi in più aiutiamo a non diffondere questa cosa a chi sta operando per noi per salvare il culo a noi a loro stessi e ai loro cari quindi era doveroso mi dispiace spero di portare video al più presto spero di rivedervi e abbracciarvi presto e ci vediamo presto ciao